Tutti in giro, in mezze maniche o comunque con abiti leggeri, complici le temperature decisamente anomale per la media stagionale. E proprio il clima così caldo è uno dei fattori che ha messo più in difficoltà il commercio in quest'ottobre insolito, con vendite del meno 15% rispetto allo stesso mese del 2021, secondo le stime di ConfCommercio. Ma quanto e se il caldo anomalo di questi giorni incide anche sulle vendite qua a Cremona? Beh, incide purtroppo nel nostro settore di Federmoda tantissimo, perché ovviamente io ricordo che il primo di novembre di soldo si mettevano sulle pellicce o i capi invernali, oggi siamo tutti in maglietta, quindi provate a immaginare chi ha negozi di moda che vende capi invernali, non sta vendendo nulla, oltre al fatto comunque fine mese, il carbollete, tutte le spese che le persone hanno, è un momento molto difficile. Nelle grandi città ci sono i turisti, che arrivano ormai in ritmi pre-covid, a comprare e a fare shopping anche soltanto l'invernale. Ma com'è la situazione a Cremona? Ieri, dubbiamente, in città c'era tantissima gente, sabato e anche domenica. Purtroppo i negozi, io parlo proprio dei negozi di moda, hanno lavorato comunque poco. Qualcuno addirittura ha preferito tenere chiuso domenica, perché dopo un sabato, comunque con la città murata e ovviamente con i negozi vuoti, hanno preferito tenere chiuso perché le spese sono tante.